Oh madonna, oh madonna, se siamo tutti venuti, se siamo tutti venuti al 93esimo, 92esimo, quello che era, che bello così, ma che spettacolo, l'idea che per loro questa qui era una finale di Champions League, non aspettavano altro, occasione della vita in più, tutti i pretesti per scannarsi contro Vlaovic, una partita devono fare in una stagione, due, perché però quella del ritorno conta un pochino meno, ma in particolar modo, oh che bella, quella di casa, la partita della vita, a maggior ragione poi dopo che veramente non è combinato un cazzo per tutta la partita, l'unica occasione vaga, tra l'altro che ha avuto è quella sui piedi di Vlaovic che cerca di fare il pallonetto ma non la alza a sufficienza una partita destinata allo 0-0 che se l'ha capito palesemente che Allegri l'aveva impostata proprio per quello, non è più nemmeno con la speranza di averne qualcuno in più a disposizione per la partita di ritorno e questi qui vanno a perdere per un autogol al 92esimo contro la Juventus, mamma mia, non è che è venuto lui, siamo venuti noi, mamma mia che spettacolo, così veramente, è un capolavoro, è un capolavoro come un capolavoro di Dante, ben esposto durante la coreografia perché dieci minuti prima si potevano fare cori rassisti nei confronti di Vlaovic, dopo e via l'onoreficenza alla terra della cultura con la coreografia dedicata a Dante, ma alla fine della fiera come Dante non è venuto con Beatrice, siamo venuti noi con un autogol, madonna al 91esimo, che spettacolo, che roba bella, meravigliosa, neanche la partita della vita in casa quando avevi tutto dalla tua perché affrontavi una Juventus stanca morta che si era presentata con un 11 titolare un pochino rivisitato, con 11 assenti non la vai a vincere e non solo non la vai a vincere, la vai a perdere al 91esimo per un autogol, mamma mia, ecco, è la descrizione perfetta della vostra storia e della vostra rivalità con la Juventus, descritta nell'azione al 91esimo, che ci credete voi, la pensate solamente voi e poi siete voi da soli a mettervela nel culo, che bellesta, che spettacolo, poi sicuramente usciremo, sicuramente usciremo nella partita di ritorno tra un mese, però così veramente è una roba fuori dal mondo, io in poche partite desidero di vincere così perché ovviamente spero sempre in una Juventus propositiva, in una Juventus che crei, che giochi e che magari ti vada a dominare una partita, dico la verità, oggi c'erano anche tutte le varie attenuanti del caso, a parte che l'approccio generale della Juventus su un doppio confronto lo conosciamo benissimo tutti quanti, anche quando hai tutti quanti a disposizione, figuriamoci in una partita ostica come quella del Franchi contro una Fiorentina al completo e te con undici assenti, alcuni dei quali penso anche abbastanza importanti, dato che Cassano dice che la Juventus ha culo a recuperare punti all'Atalanta solamente perché l'Atalanta ha gli infortunati, penso che anche la Juventus abbia qualche assente, ma a presidere da questo, quando c'è un doppio confronto lo sappiamo benissimo tutti quanti come le va bene o male ad approcciare le partite allegri e bene o male oggi con anche l'attenuante delle undici assenze, per carità, tutti speravamo in una Juventus diversa, ma allo stesso tempo tutti ci immaginavamo una Juventus che avrebbe giocato a grandi linee così, la cosa importante era più che altro non prenderlo perché prenderlo era quasi sinonimo automatico di sconfitta perché effettivamente la Juventus poi nell'arco di tutta la partita non ha mai dato reale dimostrazione di poterla effettivamente buttare dentro in modo concreto, deciso, non è che sia mai arrivata là davanti, però se non ci arrivi te ci arrivano loro per conto tuo e quindi guarda va proprio benissimo così, non si poteva neanche chiedere di meglio, infatti quello che volevo dire è che proprio io di solito no, l'ho detto che tipo di Juventus spero, però ci sono quelle poche partite dove proprio l'idea che loro creano di più, giocano meglio, partita della vita, hanno tutte le possibilità effettivamente per portare un risultato a casa e perché no, magari anche la qualificazione se la vanno a buttare dentro loro al 91esimo, una vittoria di questo genere sporca così penso che sia una delle cose più goduriose in assoluto, d'altronde infatti siamo noi ad essere venuti, siamo noi ed è stato veramente bellissimo, onestamente diciamoci la verità, fossero così tutte le partite non tanto per l'ansia che provi puntualmente in modo più che legittimo, ma per come poi si vanno a concludere mamma mia che giubilo, che goduria, che roba a dir poco meravigliosa, poi ovvio nella partita di ritorno serve tutt'altra prestazione anche perché loro dovranno venire su proprio con l'idea di farne come minimo due senza prenderne uno perché tanto è quello che devono fare per passare, tu però non dico all'arrembaggio perché Juventus e arrembaggio sono due rette parallele che non si incontreranno mai, però quantomeno da saper sfruttare e da saper creare un minimo, non tanto, un minimo, basta il minimo potrebbe essere più che sufficiente però ti dovrei far trovare pronto e ovviamente speri anche di avere un numero un pochino superiore di giocatori a disposizione e bisogna essere sinceri per quanto si possa giudicare la prestazione della Juventus, la pericolosità della Juventus tutti i casi che vogliamo, oggi te hai ottenuto veramente forse anche più del massimo con uno sforzo ancora di sotto al minimo, non ce lo dobbiamo negare ed è proprio per questo in partite del genere che non puoi far altro che godere non si può dire davvero nient'altro, guarda mamma mia poi tutti sempre, tutti quanti su Vlaovic, tutti concentrati su Vlaovic anche al 92esimo ci pensa Venuti, il vero serial killer è Venuti, non è Vlaovic che spettacolo, io guarda da una roba del genere mi potrei riprendere solamente se accadesse anche in un derby d'Italia una roba del genere per dire in una finale di Champions sarebbe l'apice però non mi espongo così tanto oltre ma già così mamma mia che spettacolo veramente neanche la partita della vita riescono a buttare dentro neanche la partita della vita contro la Juventus, la squadra più odiata che ti fa dare il 250% che si presenta con 11 indisponibili mamma mia, veramente poi questi parlano di rivalità, la rivalità che poi per carità anch'io effettivamente sono in una certa rivalità con il marito di Miriam Leone e con Alessandro Madri non stiamo a guardare che Miriam Leone e la Nargino mi cagano di pezza ma quello è un altro discorso è una rivalità comunque sentita se permettete bene o male è la stessa che c'è tra la Fiorentina e la Juventus però poi se quando l'occasione giusta, perfetta per incoronare una stagione ve la buttate dentro voi al 91esimo onestamente un pochino dopo ve le andate anche a cercare con tutto il bene del mondo un pochettino dopo ve le andate anche a cercare questo lo dovete come minimo riconoscere ma per il resto va bene così tutti eravamo già psicologicamente pronti a prendere le saccagnate zero gol presi e autogol al 91esimo come si gode come se anche voi state godendo o meglio ancora siete venuti un bel mi piace iscrivetevi e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve!